Sono Ivan Mocchio per EINUM, Istituto Europeo di Medicina Nutrizionale. Parliamo di malattie croniche e autoimmuni, prevenire con la nutrizione. Interviene il dottor Dimitris Zuccalas, arrivato oggi appositamente dalla Grecia, medico, scrittore e ricercatore presidente di EINUM. A seguire la dottoressa Francesca Marcon, biologa nutrizionista, membro del comitato scientifico di EINUM. Dottore, queste malattie croniche e autoimmuni sono la grande scommessa della medicina e dell'umanità in questo periodo. In base a dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono stati pubblicati due anni fa, possiamo vedere anche la diapositiva, il 95% della popolazione mondiale soffre di malattie croniche, il 30% ne soffre di più di 5 malanni. Possiamo vedere la prossima diapositiva, per favore. E quindi, vediamo qua che 100 anni fa, il grande problema dell'umanità erano le malattie acute e infettive. Il 60% della mortalità e della mortalità era dovuto alle malattie acute e infettive. 100 anni dopo, il 2010 invece, ci si muore purtroppo di malattie croniche. Le malattie croniche sono delle malattie che durano più di 3 mesi. In queste appartengono il cancro, il diabete, le malattie del cuore, problemi della tiroide e il più grande gruppo di queste malattie croniche, che sono le malattie autoimmuni. Le malattie autoimmuni sono delle malattie, possiamo vedere la prossima diapositiva, e qui vediamo anche i dati che riguardano la mortalità dell'Italia nel 2014, che sono molto vicini anche per il resto dell'Europa. La prossima diapositiva ci può far vedere l'incremento della incidenza delle malattie autoimmuni negli ultimi anni, dagli anni 70 in poi, dove vediamo che queste malattie, che sono la sclosi multipla, sono la celiachia, sono l'asma, il diabete tipo 1, l'artrite reumatoide, tutte queste malattie dove il corpo stesso attacca e distrugge i propri tessuti. La prossima diapositiva, possiamo vedere però, e questo è un dato positivo, che l'80% delle cause, dei fattori che causano queste malattie, sono collegati, sono correlati con fattori dell'alimentazione e lo stile di vita. Quindi possiamo intervenire noi stessi e prendere responsabilità della nostra salute. Possiamo vedere la prossima diapositiva. Quindi c'è stato uno studio che ha durato 8 anni, sono stati seguiti 24.000 persone, si è visto che chi ha cambiato il proprio stile di vita e alimentazione ha fatto un po' di attività fisica, ha smesso di fumare, ha avuto una diminuzione dell'incidenza di queste malattie croniche e autoimmuni del quasi 80%. Questo è un dato molto importante. Quindi tutti di noi sono degli interventi che possiamo fare nella nostra vita e la dottoressa Marcon ci può dare più dati riguardo a scelte specifiche su questo. Dottoressa, cosa possiamo mangiare allora per stare meglio? Allora, l'importante è mangiare molta verdura, possibilmente biologica e anche biodinamica. Anche la frutta però è minore quantità rispetto alla verdura, quindi stiamo sulle due porzioni di frutta al giorno. È molto importante anche l'apporto di proteine e di grassi. Quindi come proteine possiamo mangiare appunto uova, possibilmente di galline ruspanti, pesce di buona qualità ovviamente, specialmente il pesce azzurro che contiene molti omega 3, e la carne, quindi specialmente carne organica, quindi biologica, per quanto riguarda la carne rossa, la carne grass fed, quindi di bovini alimentati ad erba, è di qualità un po' superiore, ovviamente rispetto al resto della carne. E anche l'importante è l'apporto di grassi, nonostante siano stati molto demonizzati durante tutto questo tempo, i grassi sono molto importanti. Bisogna distinguere quale tipo di grassi, qui abbiamo grassi vegetali e grassi animali, e devono essere comunque, ripeto, di buona qualità. Come grassi vegetali possiamo mangiare frutta secca, quindi noci, mandorle, nocciole e quant'altro, olive, il nostro olio extravergine, e avocado, quindi anche come frutta esotica, o anche il cocco, contiene dei grassi saturi ma sono comunque buoni per la nostra salute, e anche appunto lo troviamo negli alimenti. Altra cosa molto importante è l'apporto di acqua, spesso beviamo troppo poco, quindi dovremmo stare sui due litri di acqua al giorno, più o meno, poi a seconda del peso c'è chi deve bere di più e chi deve bere di meno. Lo zucchero fa bene o fa male? Lo zucchero fa male, zucchero, farina bianca, tutti gli alimenti raffinati sono da evitare, quindi quelli che contengono cibi che sono stati molto elaborati, come industria dolciaria o appunto cibi precotti, sono tendenzialmente da evitare proprio perché apportano dei danni alla nostra salute. Molto bene, grazie al presidente Dimitris Tsukalas, e alla dottoressa Francesca Marconto all'intervento, per qualsiasi informazione potete contattarci al nostro sito www.einum.org. Grazie.